è stata una velomeria si però c'è tutta la messa dice boh non lo so vedi che strano quella ma che cosa ti riferisci? ce l'hai visto cioè non senso anzi io volevo proprio ringraziato perché ma di che non è che ho capito che cos'è il fatto stavi alla messa? tu puoi concentrare vedi il prodotto ma mi è stata bella secondo me padre salve la devo ringraziare veramente è stato diciamo un po mi sono emozionato però le cose certe volte uno non è che le fa per avere una gratificazione le faccio perché uno la sente di farle quindi insomma grazie per quello che è successo prima durante la messa che cosa è successo? cioè io voglio dire le cose si fanno con spontaneità anche perché è giusto farle e io ho fatto quello che avrei fatto normalmente cioè non è la prima volta che faccio una cosa del genere però lei addirittura mettere in risalto questo mi è sembrato un attimino bello però mi sono emozionato imbarazzo ecco un po di imbarazzo c'è stato ma ha celebrato lei padre o no? io devo fare un po di imbarazzo c'è stato ma se diciamo puoi esplicare figliuolo? padre durante la messa quando lei a un certo punto al microfono ha detto quello che ha detto e che cosa ho detto? ma si 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 è sempre che padre io stavo la messa la chiesa era piena stavano tutti seduti così a un certo punto è arrivata la vecchietta e io che cosa ho fatto? mi sono alzato e l'ho fatta sedere e lei che ha detto ringraziamo tutto il signore mi sono sentito in imbarazzo perché non c'era bisogno di... io ho salutato vedi anche me no 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 volevo dire che quando succedono queste cose ci tengo a fare un grazio ma non doveva non doveva perché voglio dire vengono fatte di cuore figliuolo ma il microfono poi la chiesa è comunicabile io non sapevo come metterla a fare e se lo dico io il signore chiedi tu dove deve mettere la faccia amore è giusto il discorso grazie tutte le volte che verrai lo dirò credo no no questo cerchiamo di evitare la prossima volta no no ma lo è quasi spontaneamente naspera comprensione padre arrivederci signori abbia pietà di lui